non era un ladro quello che stava entrando dalla porta il fatto che gli abitanti di certe zone del new england considerassero un affronto alla loro proverbiale ospitalità chiudere a chiave la porta di casa era una cosa che gli era sempre apparsa straordinaria e anacronistica allo stesso tempo il rumore veniva dalla stanza matrimoniale quella dove dormiva jim warren sbirciò dalla porta socchiusa era jim si aggirava per le stanze come un sonnambulo ma non era sonnambulo si esercitava a usare le stampelle con quella caparbietà propria dei bambini senza pensare al domani la sua era una piccola sfida e ce la stava mettendo tutta per vincerla warren restò sulla porta attento a non fare rumore il ragazzo stringeva le mani sulle impugnature al punto che le nocche scarne gli si facevano bianche aveva il viso contratto nello sforzo e un'espressione determinata che warren non gli aveva mai veduto sentì altre piccole lame di luce schiantare le tenebre della sua mente e provò una sensazione di inatteso appagamento jim cadde e poi si rialzò cadde e si risollevò ancora un'infinità di volte le sue gambe erano deboli ma l'unico modo per rinforzarle era camminarci usarle e le grucce erano un modo le aveva portate la donna bet che aveva modi amichevoli e un buon odore ma vedendole jim si era spaventato ricordava sirus abbot che tutti chiamavano salterino salterino da quando aveva perso la gamba destra se ne andava in giro per il paese ciondolando sopra un paio di grucce intagliate nel tronco di un vecchio ciliegio imprecando contro la malasorte che gli aveva tolto il lavoro di maniscalco e contro se stesso per essersi ridotto ad un ubriacone quando si era ferito con la sgorbietta la gamba gli era diventata nera e gonfia e il dottore gliel'aveva dovuta tagliare con la sega perché diceva che era perduta il babbo raccontava che sirus era svenuto per il dolore grazie a dio e che la lama si era rotta due volte prima di avere ragione dell'osso da quando si era svegliato sirus non era più stato lo stesso ora era salterino sirus con le sue grucce di ciliegio ma ora che ci stava provando jim capì che le sue grucce lo aiutavano a stare in piedi a muoversi più agevolmente erano qualcosa di utile non di pauroso cadde e ancora si rialzò e quando fu in piedi e un po meno traballante delle altre volte fu colpito da un'intuizione spaventosa che si insinuò del tutto inaspettata nella sua mente pensò che la stessa malattia che lo indeboliva che gli aveva fatto perdere i capelli e scurito i denti avesse avvelenato la sua famiglia forse la mamma il babbo patrick jane daniel joanna katy e timothy erano morti e lui era l'ultimo sopravvissuto proprio come era accaduto al signor king feig cadde un'ultima volta più per il senso di vuotezza che quel pensiero gli provocò che non per una reale perdita di equilibrio e questa volta restò a terra piangendo warren si precipitò nella stanza presso il ragazzo non è così grave disse cercando di consolarlo anzi a dire il vero stai andando alla grande lo aiutò ad alzarsi ma quando poteva vedere i suoi occhi intui che il pianto non era causato dalla frustrazione ma da qualcosa di più profondo lo sguardo di jim era un miscuglio di terrore e smarrimento warren lo abbracciò meravigliandosi come un gesto tanto inusuale per lui paresse in quella circostanza la cosa più semplice spontanea da fare jim ricambiò l'abbraccio stringendosi con disperazione a quell'uomo che forse iniziava finalmente a realizzarlo rappresentava tutto quel che gli restava quella notte piove e la pioggia a un certo punto si trasformò in temporale warren non riusciva a dormire la luce finalmente rischiarava la soffitta della sua mente ma il dipanarsi delle ombre portava con sé una nuova consapevolezza ora che vedeva chiaramente ora che scorgeva gli angoli e le cose vecchie rimaste ad ammuffire non poteva più fingere ora che vedeva non aveva alibi non poteva chiudere gli occhi ora che vedeva sapeva nella stanza accanto un ragazzino lottava contro i ricordi e la paura affidandosi a lui all'uomo che non più tardi di un mese prima stava per gettare se stesso e tutta la vita che aveva sfiorato nell'oceano pensò che tra le onde insieme a lui e alle vittime dell'atomica sarebbero finiti anche susan e jack e probabilmente alex stein e chissà quanti altri anche jim perché quando un uomo se ne va porta con sé nel ricordo le persone che ha amato e che gli sono state accanto e se si getta via getta via anche il legame che c'è stato e il pensiero che è reale quanto loro e tutte le emozioni che grazie a loro sono scaturite nel caso di jim bob avrebbe rinunciato a quanto stava vivendo e alla speranza che forse inconsapevolmente regalava gli oggetti di jack gridavano la loro solitudine superando il fragore del temporale e i rami degli alberi piegati dal vento animavano le pareti dando corpo a quei lamenti jim comparve sulla porta all'improvviso annunciato da un lampo bluastro e da un tuono che pareva essere esploso esattamente sopra la stanza stava sulla soglia reggendosi allo stipite non si mava come fosse reduce da una corsa il temporale lo aveva spaventato warren gli fece posto e jim zoppicò fino al letto il bambino si stese e si rannicchiò contro il fianco dell'uomo tremante rimasero a lungo abbracciati scambiandosi il calore e i ritmi dei loro cuori emozionati infine jim si sporse verso la guancia ispida di bob e gli diede un bacio lieve come il posarsi di un insetto è freddo come metallo buonanotte disse bob e d'un tratto gli oggetti e la memoria di jack si zittirono e l'uomo e il bambino si addormentarono warrens fu svegliato da alcuni colpi secchi simili a quelli di un ascia su un tronco avvertì una confortevole presenza accanto a sé era jim pensò di avere sognato e si rimise giù ma subito i colpi ripresero il temporale era passato ma qualcosa forse un ramo spezzato batteva contro la parete della casa bob sentì chiamare apri questa maledetta porta i rami non parlavano warren scivolò dal letto facendo attenzione a non svegliare jim che dormiva scomposto la bocca spalancata un braccio pensolante fuori dal letto richiuse la porta della stanza e scese le scale bert larkin era avvolta in un accappatoio rosa che la faceva se possibile più rotonda di quanto fosse aveva il segno del cuscino su una guancia e gli occhi di chi ha subito un brutto risveglio warren controllò l'ora erano quasi le due bet che è successo alle spalle della donna intravide uno spicchio di cielo nero e stellato l'aria fredda o forse il sonno lo fecerà brividire qualcuno lo vuole sapere da te rispose bet sistemandosi la cintura allentata da numerosi colpi inferti alla porta cosa c'è susan al telefono vuole parlarti a quest'ora sta bene sì sta bene mi ha detto di buttarti giù dal letto e di farti correre all'apparecchio warren diede una rapida occhiata verso le scale ma è come faccio con jim dorme sì è staro io con lui warren esitò ti consiglio di muoverti e conosco bene susan e ti garantisco che è meglio che tu non la faccia aspettare è nella stanza di jack disse warren afferrando il giaccone vai 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 ci penso io warren corse verso la casa di bet con i piedi nudi e il cuore in gola la strada in lieve pendenza piangeva rivoli di fango freddo e foglie inzuppate si può sapere che diavolo combini susan era davvero arrabbiata lo si capiva dal tremolio della voce warren lo rammentava bene l'aveva notato spesso quando lei dava in escandescenze per il fatto che lui non c'era o che se c'era era assente o che se c'era e non era assente aveva da sbrigare qualcosa in laboratorio una specie di corda vibrante sul punto di rompersi susan era più che arrabbiata era furiosa forse si disse bob aveva scoperto la presenza di jim ma perché chiamare in piena notte solo per il gusto di svegliarlo perché disturbare anche bet warren non fece in tempo a rispondere susan era un fiume in piena che gli si riversava addosso degli uomini sono entrati in casa mia gridò degli uomini hanno rivistato dappertutto ti rendi conto in casa mia nel mio salotto nella mia camera da letto warren pensò che un tempo era stata la loro camera da letto ma ora indubbiamente era la camera da letto di susan e lei non lesinava aggettivi possessivi per ricordarglielo intendi dei ladri intendo gente in giacca e cravatta abiti scuri ti dice niente ora era confuso ti hanno fatto del male certo che no io non ero in casa per loro fortuna e altrimenti li avrei sbattuti fuori a calci è stata la signorina foster a vederli ha detto loro che avrebbe chiamato la polizia ma io come la sensazione che fossero loro la polizia o qualcosa di simile vero professore susan ti giuro che non capisco di cosa parli parlo rispose ostentando una pazienza vacillante di uomini che erano qui per un motivo preciso quei tizi cercavano te o roba che ha a che vedere con te lo capisci ora warren capì erano arrivati a casa sua o meglio a casa di susan allora vuoi spiegarmi che succede lo incalzò la donna come mai disse lui eri fuori a quest'ora la mente agitata di warren non seppe aggrapparsi a nient'altro in effetti gli sembrava piuttosto strano che susan rientrasse tanto tardi quando erano sposati faticava a restare sveglia oltre le dieci come mai ero fuori ma sei ubriaco per casa che importanza ha dove ero dimmi immediatamente perché quegli uomini sono penetrati a forza in casa mia l'urlo costrinse warren ad allontanare la cornetta dall'orecchio fortuna che bet non era lì accanto a lui arido maschilista ignorante avrebbe detto cercano qualcosa che ho io ammise ti sei messo a rubare i segreti del governo no susan nessun segreto ma allora che diavolo cercavano formule matematiche progetti cosa un bambino ci fu un istante di silenzio mi prendi in giro robert warren cosa significa un bambino un bambino hai presente un bambino susan io sì rispose lasciando a mezz'aria il seguito warren accusò il colpo in fondo se l'era cercata c'è un bambino con me l'ho trovato nel ghiaccio quando ebbe finito warren sentì che susan era turbata perché dovrebbero volere il bambino secondo il dottor jessop hanno intenzione di studiarlo studiarlo ma come possono sarebbe una barbarie è per questo che l'ho portato via con me ma io non riesco a crederci warren si chiese a cosa susan non credesse alla storia di jim o al fatto che lui se ne fosse preso cura a quel modo devi trovare la sua famiglia devi assicurarti che non soffra warren la interruppe potrebbe non esserci una famiglia per jim pensò sono io ora la sua famiglia ma non ebbe il coraggio di dirlo a susan in quanto alla sofferenza se warren avesse posseduto la pozione per smettere di soffrire l'avrebbe bevuta lui per primo tutto questo è susan cercava la parola più adatta ma la parola adatta forse non esisteva è terribile provò a dire warren terribile ripete susan poi ci ripensò non non è terribile è assurdo assurdo warren aveva utilizzato molti aggettivi per quella storia ma assurdo non gli era mai venuto in mente sì assurdo la nota acuta con cui susan aveva pronunciato quell'ultima parola suggeriva che il discorso stava per chiudersi non voglio sapere niente aggiunse infatti non voglio essere coinvolta ora non se l'aspettava non da una come susan che ai tempi del loro matrimonio raccoglieva e sfamava gatti randagi e merli caduti dal nido che elargiva l'autemance ai boy scout davanti alla porta di casa che si faceva promotrice di campagne a favore della biblioteca a favore della chiesa a favore degli orfani di guerra dei profughi dei vecchi dell'ospizio di san joseph dei senza lavoro da chiunque ma non da susan eppure aveva ragione lei il problema era suo di warren il resto il passato la sventura di un bambino che avrebbe potuto essere loro figlio tutto questo per susan non contava non più l'aveva detto lei stessa mi pare che nulla più mi appartenga e warren accettò suo malgrado il verdetto farò in modo che tu non sia coinvolta disse mesto devi lasciare wall cove ancora una volta warren si chiese se la preoccupazione di susan derivasse dalla possibilità che quegli uomini li trovassero o semplicemente dal fatto che non voleva che la sua casa al mare fosse associata alla vicenda di due fuggiaschi preferì non saperlo il ronzio della linea coprì un imbarazzato silenzio quindi senza alcuna parola warren udi riagganciare tornò a eden road incurante dei piedi scalzi e gelati che calpestavano pozzanghere e cumuli di fango più che i governativi pensava a susan come mai rincasava quell'ora si vedeva con qualcuno rientrando in casa si costrinse a dissolvere l'ultima immagine che la sua mente aveva formato una sala da ballo al centro della quale a lume di candela danzava stremata di fatica e felicità susan la sua susan insieme a lei stretto a lei una specie di orso ammaestrato con un completo a fiori e un cappello di paglia rosa sulla testa credo sia gaelico come dici gaelico è una lingua antica un mio bis bis qualcosa veniva dall'irlanda gli occhi di warren corsero alle scale ti ha parlato bet scosse il capo dorme ma parla nel sonno mi sono appuntata alcune parole pensi di poterle tradurre farò un salto in biblioteca domani anzi si corresse controllando l'orologio dovrei dire oggi credevo che in irlanda parlassero inglese ma mio nonno diceva che un tempo tutti parlavano il gaelico in irlanda un tempo quale tempo credo che fino agli inizi del secolo fosse ancora piuttosto diffuso specie nelle campagne questo non provava che jim venisse dal passato osservò warren e in verità non provava nulla il gaelico poteva essere sopravvissuto come lingua d'uso quotidiano nelle zone più interne e meno scolarizzate prima di andarsene bet chiese tutto chiarito con susan più o meno la donna restò in attesa aspettando altro che non venne ce l'ha ancora con te disse poi lo so e perdere jack non l'ha di certo aiutata e warren sapeva anche questo a bet la donna era già sotto il portico che vuoi rispose senza voltarsi ti risulta che susan voglio dire sono le due del mattino è abbastanza curioso che rientri a quest'ora ti pare mi chiedevo non è che per caso lei abbia abbia cosa mi hai capito no un uomo qualcosa del genere un uomo qualcosa del genere un uomo intendevo un uomo sì un fidanzato diede uno strattone alla cintura dell'accappatoio lavati i piedi prima di tornare a letto disse allontanandosi o sporcherai le lenzuola di fango l'indomani warren pensò che una gita ai fari di toucher island avrebbe potuto essere un ottimo diversivo per jim e anche per se stesso ammise nel frattempo sperava di avere buone notizie da bet che si era rivelata un insospettato quanto prezioso alleato warren pagò due dollari a un pescatore perché potasse lui e jim all'isola che a parte il guardiano non aveva abitanti e dunque mancava di un servizio di trasporto regolare quando la barca si staccò dal molo un'ombra attraversò gli occhi di jim warren se ne accorse e gli posò una mano sulla spalla jim vide i fari avvicinarsi non li ricordava non somigliavano al faro di hinnish boffin né a quello di hinnish turk o di klegggan non vi era alcuna isola che lui conoscesse con due fari e questo confermò la sensazione ormai da giorni divenuta certezza di trovarsi molto distante da casa perché bob warren lo stava conducendo su quell'isola l'instabilità della piccola barca remi lo agitò la riva fortunatamente sembrava vicina molto vicina tuttavia fino a che non mise i piedi e stampelle sul suolo jim non riuscì a tranquillizzarsi non ne conosceva il motivo come del resto non conosceva la ragione della maggior parte delle cose che gli stavano capitando forse si disse in quell'isola avrebbe trovato notizie della sua famiglia il signor austin bale era invecchiato non quanto era invecchiato jim da una settimana a quella parte pensò warren ma abbastanza dall'ultima volta che lui era stato a teacher island all'incirca dieci anni prima bale era guardiano dei fari di teacher island da quasi 40 anni e prima di lui lo era stato suo padre il signor bill strinse la mano di jim con deferenza benvenuto a teacher island jim disse portava dei curiosi baffi bianchi che si univano alle basette e che risaltavano sulla pelle brunita dal sole e aveva occhi piccoli e colore del turchese che esprimevano una naturale schiettezza piccolo di statura nonostante l'età si muoveva agilmente ma quando si avvide delle difficoltà di jim chiese al ragazzo se poteva andare più piano perché lui era vecchio e le gambe non gli funzionavano più come un tempo e anche se jim non capì una sola parola comprese il senso e le intenzioni e sorrise warren confidò al signor bill di essere stato sull'isola molte altre volte e il guardiano si scusò di non rammentarne il volto dimentico un sacco di cose si schermì a parte di controllare i fari e i fari gemelli di teacher island erano stati costruiti nel 1861 con blocchi di granito del new hampshire posizionati a 200 metri di distanza avevano luci a intermittenze differenti il faro sud emetteva un flash rosso a intervalli di 5 secondi il faro nord una luce fissa e gialla adesso è tutto più facile disse il signor bill accompagnando i due visitatori verso il vecchio magazzino dell'olio trasformato in un piccolo museo c'è l'elettricità ma ai tempi di mio padre si doveva correre da un lato all'altro per controllare che la fiamma non si spegnesse mai e salire i 148 gradini di ciascuna torre parecchie volte al giorno era davvero una vitaccia il vecchio magazzino dell'olio era un fresco stanzone in mattoni a vista e piccole finestrelle che si aprivano quasi al soffitto erano state disposte alcune teche contenenti oggetti d'uso quotidiano risalenti al secolo precedente libri carte altre curiosità alle pareti erano appesi articoli di giornali e antiche stampe di ispirazione marinaresca quello è un mio lontano parente disse il signor bill notando jim intento ad osservare un ritratto sbiadito sydney haskell aveva solo 14 anni all'epoca ma si comportò da eroe warren spiegò al guardiano che jim non comprendeva l'inglese ma il signor bill non si diede pena cavò da un armadio un libro con la copertina in cuoio e si mise a sfogliarlo mostrandone il contenuto al ragazzo raccontava delle vicende accadute a teacher iceland non sempre vere pensò warren sbirciando da sopra le spalle dell'anziano guardiano ma decisamente pittoresche con l'aiuto delle immagini il signor bill narrò a jim la storia del suo antenato sydney jaskell che rimase isolato per due giorni e due notti a causa di una tormenta di neve che impediva al padre e alla madre di tornare dalla terra ferma dove si erano recati per fare curare il figlio minore gravemente ammalato grazie a tutti grazie a tutti